La sospensione feriale è prevista per due settimane, quindi dal 23 marzo poi partirà questo periodo che viene considerato fino al 31 maggio in cui ci può essere una disciplina dell'organizzazione e delle udienze che tiene conto del momento. Allora per non creare un periodo troppo ristretto che poi avrebbe potuto presentare la necessità di fare una proroga, abbiamo pensato che fino al 31 maggio diamo ai vertici degli uffici giudiziari la possibilità di organizzare l'ufficio in considerazione di quelli che saranno gli sviluppi dell'emergenza. Chiaramente ciò non toglie che se come tutti ci auguriamo e stiamo lavorando per questo senza sosta, se l'emergenza avrà una conclusione molto tempo prima o comunque ci sarà una situazione migliore, piano piano che la situazione migliorerà gli uffici giudiziari potranno tranquillamente andare avanti con l'attività che è l'ordinaria attività della giustizia italiana. Così come ci saranno uffici giudiziari che si troveranno in zone in cui l'emergenza è meno avvertita perché magari è meno presente il numero, cioè c'è un numero di contagi di gran lunga e inferiore rispetto ad altre zone d'Italia e potranno organizzarsi in maniera diversa. Diciamo che col decreto che è stato approvato fra due settimane si dà un quadro a tutti i vertici degli uffici giudiziari per poter organizzare a seconda delle esigenze l'attività giudiziaria nel modo che sia finalizzato prima di tutto a tutelare la salute degli addetti ai lavori e di tutti gli utenti degli uffici giudiziari. Grazie, buonasera a tutti.